Attenzione, Paganese davanti, Orlando fuori gioco forse, vediamo, non c'è fuori gioco, riesce a tenerla in campo Neglia, pallare a rimonto, attenzione, un traversone, la palla è lì, c'è un gol, qualcosa da Paganese, la prima azione da Paganese ci castiga, una palla che è scivolata dai pugni di forte, mi sembra che altra persona è meglio a radicare, questa parte, nella prima azione ci hanno avvicinato, adesso bisogna fare due gol, la palla è caluta, lì avanza forte,